Buonasera, buonasera a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale, sul canale della Ely. Questa sera parliamo dei profumatori d'ambiente e del profumo che ho trovato ed ho scoperto dalla mia parrucchiera. Che bello sapere di aver concluso la giornata con tutte le cose da fare, che mi aspetta un appuntamento importante con Doc, il dottore più bello del mondo, e in questo intervallo di tempo mi dedico a una delle mie passioni, i profumi, e mi dedico a voi. Avevo voglia di girare un video, finalmente in questa settimana sono riuscita a trovare un po' di tempo questa sera e come vi avevo promesso e vi avevo raccontato nei video scorsi, vi farò conoscere questi profumatori per ambiente e un profumo che a mio parere sono spettacolari. Io non ho mai trovato dei profumatori di ambiente così persistenti, così intensi, così duraturi. Li ho scoperti agli inizi di dicembre quando sono andata a fare la tinta l'ultima volta dalla parrucchiera e questa settimana ci devo ritornare. Devo prendere ancora l'appuntamento, speriamo che abbia tempo, o sabato, o comunque settimana prossima devo assolutamente andarci. Mentre stavo facendo la tinta vedo questi... Prima c'era l'ispositore dei profumi e ne aveva solo tre tipologie. Una femminile unisex, una prettamente maschile che era meravigliosa ma che non ho comprato, ne ho comprata solo una lì e tutti i profumatori di ambiente che profumavano veramente, veramente tantissimo e uno l'ho comprato lì. Il primo che ho comprato è questo, spaziale. Allora, la casa, il brand, si chiama Luxuria Alternative Parfum. Fa dei profumatori di ambiente e dei profumi che sono di ispirazione. Non ho trovato su YouTube nessun video, nessuno che ne parlasse, quindi se farò qualche errore almeno non potrò confrontarmi con nessuno e nessuno potrà dire niente. Dei profumi, mi sono accorta poi, che fa dei dupe, dei profumi di ispirazione, di profumi molto noti di nicchia, molto molto famosi. L'ho scoperto per caso, perché mettendo le note in internet mi è uscito il profumo che ha le stesse identiche note. Poi io non so se ci assomigli veramente oppure no, ma vi dico che è spaziale. Allora, questo profumatore d'ambiente, guardate, era pieno. Io ne ho comprati 4 da mezzo litro e 2 di questi da 250, o 200 mi pare, 200-250 non mi ricordo, perché questo è un profumo meraviglioso. Questa profumazione si chiama Capri e già dal nome, potete capire, e dal colore a cosa si ispiri. Hanno dei bastoncini veramente, cioè, grandissimi. Sono qui con tre profumatori che occupano metà tavolo. È una profumazione freschissima, marina, agrumata. Allora, vi leggo le note. Allora, 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 è scritto in piccolissimo e non vedo assolutamente niente. Allora, profumatore d'ambiente Capri, note di testa, bergamotto, limone, note verdi, menta. Noti di cuore, lavanda, note marine, mughetto, gelsomino, rosa, viola, fiore d'arancio. Note di fondo, legno di cedro, muschio bianco, alghe marine. Allora, questa profumazione ha tutto il profumo dell'estate, del mare. Una profumazione fresca, una profumazione marina, una profumazione agrumata. Vi dicevo che l'ho in uso da metà dicembre. L'ho nella mia camera e le prime due settimane, sì, facciamo due settimane, io ho dovuto aprire la camera perché profumava troppo. Io sono una, sapete, che ama i profumi intensi, ama i profumi che si fanno sentire. Questo è intenso, si fa sentire e forse anche troppo se è in un ambiente abbastanza piccolo. La mia camera non è piccola, è 5 metri per 4 metri, quindi 20 metri quadri di camera. Abbastanza fresca, quindi si consuma veramente in questa camera molto molto lentamente ed espande un profumo che è meraviglioso. E anche quando la camera rimane aperta, la porta rimane aperta ed ha sull'anticamera, che è praticamente un'altra camera, vi giuro, si sente tantissimo. Io non ho mai trovato dei profumatori di ambiente che siano così intensi. Per me questi profumatori me lo sono pure scritta, perché mi hanno fatto fare un viaggio olfattivo inebriante. Sono stupendi, sono buonissimi. Poi, tornando a casa dalla mia parrucchiera, vuoi che io non vada a cercare l'azienda, ovviamente, su internet. L'ho trovata, è un'azienda italiana, napoletana, che produce prodotti di alta qualità, perché le recensioni che ho trovato sono tantissime e sono tutte super positive. Diciamo che il punto di forza è proprio l'intensità della profumazione e quanto quanto durano. Sia i profumi di ambiente, sia i profumi. Questa è la prima fragranza che ho provato e io me ne sono innamorata. E proprio sul sito, nel periodo di Natale, ma anche adesso, ci sono delle offerte, che vi danno la possibilità di scegliere tre combinazioni. Sono dei kit, o da assaggio, tra virgolette, di 200 ml o da 500 ml, oppure c'è una confezione da 500 ml e due da 200 ml. E così le ho comprate. Le ho comprate per fare dei regali. Uno l'ho regalato alla mia amica Simo del canale Simona di Pensieri Pasticci. Non so se ne l'ha ancora provato. Ed era a arancia e cannella, che era la confezione piccola. Allora, adesso qui dentro c'è un altro profumatore d'ambiente che non ha nulla a che vedere con questo. È abbastanza delicato, si sente, ma arancia e cannella era fin troppo per questa camera. La camera hobby è un po' più piccola della camera matrimoniale. È una camera che ha molto sole tutto il giorno, dalla mattina alla sera, molto calda e quindi si è consumato in minor tempo. Ma vi giuro, anche qui non posso tenere la camera hobby aperta perché se la gatta entra fa dei disastri, perché ho tutte le mie orchidee e lei ci scava dentro, ho un piccolo bonsai e mi ha distrutto praticamente quasi tutte le radici. Quindi questa la tengo chiusa per forza, ma era quasi impossibile entrarci. Era una profumazione meravigliosa, molto invernale, molto calda, molto speziata, di un colore arancione. Mi piacciono tantissimo anche le confezioni così lineari, con l'etichetta colorata che richiama il profumo che c'è all'interno della boccetta. È una profumazione stupenda. Simo, se tu l'hai già provata, puoi fammi sentire. E le note di arancia e cannella, adesso ve le leggo, ok, sono, ah vabbè, arancia e cannella, ovviamente. Le note di testa, note di cuore, cannella, zenzero, anice stellato, note di fondo, muschio bianco, paciuli, muschio di quercia. Ecco, forse perché le temperature qui dentro sono molto calde. Io le note di fondo non le ho sentite, ma le note di testa, le note di cuore, veramente inebriavano la stanza. Ma buonissime, 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 veramente. Avete in mente quando tante volte a Natale, io le ho fatte qualche volta, le arance decorate con i chiodi di garofano, con la cannella, con l'anice stellato, i chiodi di garofano schiacciati all'interno della polpa dell'arancio. Ecco, quello era il profumo che avevo in questa camera. Era stupendo, veramente, veramente stupendo. Io mi sono innamorata di questi profumatori. Ne ho provati tanti, ne ho provati veramente tantissimi, di prezzi sempre medio-bassi. Non ho mai speso più di 20 euro. Questi da 500 ml costano 19,99 euro. Nel mio parrucchiere, o comunque penso nei negozi, perché deve essere un prezzo stabilito. Sul sito costano leggermente meno quando li comprate a Trist, però poi sul sito ci sono le piccole spese di spedizione, che non incidono tantissimo. Sono forse 6,50 euro. Ecco, spedizione a partire da 6,50 euro, quindi si può anche fare. Non le ho prese dalla mia parrucchiera, perché queste profumazioni non c'erano. Ce ne erano veramente molto poche. Ma vi dico che è veramente, secondo me, un brand, una casa di profumatori per ambiente, di profumi, che ha delle fragranze veramente, veramente di qualità. Sono stupende. Ieri ho aperto da mettere in anticamera questo. Voi non vedete il colore, lo vedete un po' più scuro. Si chiama Rouge Vin, vino rosso. Voi qui entrate in un vigneto, in un vigneto dove stanno facendo la vendemmia. Si sente il profumo del mosto, l'uva fragola, qualche frutto rosso, anche qualcosa di più dolce. È un profumo non tanto dolce, quasi uno zuccherato aspro. È una bomba, una bomba dura per ore nell'anticamera, che poi è aperta sulle scale che vanno all'ultimo piano e le scale che scendono al piano terra. È veramente un'esperienza olfattiva che vi fa viaggiare, vi fa sognare e per me è una cosa spettacolare. Vi dico anche le note di Rouge Vin, perché sono veramente, assolutamente da provare. Allora, note di testa, violetta, arancio, magnoglia. È giusto? Sì. Note di cuore. Uva rossa, mirtillo, prugna, fragole, frutti di bosco. Note di fondo, legni stagionati, legno di betulla. Allora, io al momento questo l'ho appena aperto, eh, e ci sento tantissimo i frutti, tutti i frutti rossi. Ci sento l'uva, la prugna, i legni ancora non li percepisco o magari non li percepirò mai, ma già soltanto questo mix di frutti rossi e di vino è inebriante, inebriante. Secondo me questo, se lo metto in questa camera, non posso più entrarci, perché col caldo, con il calore che c'è in questa camera, sarebbe troppo. Che vi devo dire? Che ho comprato altre due profumazioni da tenere scorta. Allora, questa che non ho ancora aperto ed è al mandarino dolce. Ecco, vi arriva in una confezione così, tutta incelofanata e cartonata. Questa è al mandarino dolce e vediamo le note di questa. Allora, mandarino, bergamotto, zenzero, salvia, cannella, vaniglia, ambra liquida, paciuli. Beh, anche questa deve essere esplosiva, esplosiva. Poi, quando l'avremo finita, ve ne parlerò ancora. E poi, l'ultima che ho preso è frutti di bosco. Scusate, mi alzo. Eccolo qua. Frutti di bosco. Anche questa ha un colore più chiaro. Un rosa tendente al bordeaux. E le note di questa sono frutto della passione. Mirtilli dolci, bergamotto, lampone, fragola, ribes nero. Note di fondo, menta fresca, ambra liquida, muschio bianco. Ecco. Ecco, ho la certezza, anche se non li ho ancora aperti, che tutte e due queste profumazioni siano delle bombe esplosive. Non posso che consigliarveli. Il prezzo è, secondo me, più che giustificato. 19,99 euro, 20 euro per 500 ml di prodotto. E mi pare sui 12, quelle da 200. 12,99 euro, 13 euro. Sono veramente buonissimi. Ma, adesso, passiamo al profumo. Perché io questo l'ho annusato dalla mia parrucchiera e l'ho comprato perché mi piaceva tantissimo. Poi, ne ho comprati altri due. Che, sono sincera, ho messo da qualche parte e non trovo più. O meglio, saranno nel mio armadio dei profumi. Ma, siccome li avrò messi dietro, oggi non sono riuscita a recuperarli. Ma non li ho ancora provati, quindi avremo modo poi di parlarne insieme. Allora, estratti equivalenti. Questo fa parte di una piccola collezione di profumi, diciamo, che sono più intensi. Hanno degli estratti naturali e si ispirano a dei profumi famosi. Collection Privé, infatti, dice. E la confezione è molto simile. Richiama il profumo a cui è ispirato. Il profumo è da 50 ml e io l'ho pagato 19,99. Ne ho usato, ne ho usato tanto perché è buonissimo. Perché è buonissimo. Allora, questo si chiama Zed Luxuria e Estratti. Io l'ho spruzzato alle 3 oggi pomeriggio e qui è identico a quando l'ho spruzzato. Ma lo rispruzzo perché è buonissimo. Mamma mia. Aiuto. Io continuo... Quando ce l'ho continuo a sniffare. Questo è un profumo che ha ricevuto tutti i complimenti possibili in tutti i posti in cui sono andata, soprattutto in ufficio. Non è invadente. È un profumo molto intenso. Le note di testa sono Chihuahua del Venezuela, che io non sapevo cosa fosse ed è per quello che ho scoperto che è un profumo ispirato ad un profumo di nicchia. Note di cuore, ambra grigia della Nuova Zelanda. Note di fondo, mandorla d'avola. Allora, la prima impressione che ho avuto quando me lo sono spruzzata dalla parrucchiera è stata Mamma mia, che bontà questo profumo. Lo compro, l'ho preso e me lo sono messa lì da pagare insieme alla mia tinta. È un profumo molto cremoso, molto rotondo, morbido. Allora, io sento tantissimo in questa composizione di note il Chihuahua del Venezuela, che è il cacao del Venezuela. Chihuahua, penso si dica così, è una località del Venezuela dove dicono ci sia il cacao più buono al mondo. È un cacao però non amarognolo. È un cacao morbido, quasi zuccherato, con un profumo di vaniglia. Io, quando sento questo profumo, mi viene in mente il caffè marocchino, il marocco, che troviamo nei nostri bar. Il caffè marocco è composto da caffè espresso, latte, cioccolata e una spolveratina di cacao sulla superficie, sulla schiuma del latte. Ecco, questo è, insomma, il marocchino, il caffè marocco. È meraviglioso, meraviglioso, veramente buonissimo. E ho scoperto che si ispira al profumo. Allora, ho trovato due profumi che sono uguali, però presumo che il primo che ho trovato sia comunque un profumo di ispirazione creato ispirandosi al profumo originale. Allora, il primo che ho trovato è Cacao del Venezuela Chuao Edipi Spray della casa Parfum 1950. E le note sono le stesse. Ho visto che il 50 ml qui costa 79 euro. Potrebbe essere anche questo un profumo di ispirazione che ricorda Morph Z. Z di Morph. Che è un profumo di nicchia che ha le stesse identiche note. Cioè, sono queste tre note. Io non so come sia il profumo originale. Perché se il profumo di ispirazione è così buono, non oso immaginare la perfezione del profumo originale. E vi dirò molto molto sinceramente che sarei disposta a spendere 130-140 euro come costa poi il profumo per avere un profumo che sicuramente ha qualcosa in più di questo. Già così mi accontento perché per 20 euro, insomma, diciamocela, me lo posso spruzzare quante volte voglio. Ma vi dirò che, come voi lo spruzzate, rimane fino a sera. Durano tantissimo. Cioè, sulla pelle rimane identico. Non ha un'evoluzione. Queste tre note ci sono, queste tre note, sentite. Io ci sento anche una piccola nota di tabacco. Non è molto preponderante, non è forte, ma, diciamo, viene mixata benissimo con queste tre note. E andando a vedere le note che compongono questo profumo, sembra che l'ambra grigia della Nuova Zelanda abbia questa caratteristica di avere un profumo di legni secchi, alghe, terra, tabacco, incenso. Ha questo profumo abbastanza speziato e nell'insieme io ce lo sento in questo profumo. Ci sento anche una nota di tabacco che mi piace tantissimo nei profumi. Volevo capire poi di cosa profumasse la mandorla amara d'avola e quindi sono andata a fare una piccola ricerca. È una mandorla molto ricercata che ha un sapore molto dolce e alla fine un retrogusto amaro. E quindi, secondo me, la dolcezza che è di questo profumo è probabile che sia della mandorla. Perché il cacao non è assolutamente dolce, non è un cacao intenso e amarognolo, ma, a mio parere, non regala la dolcezza a questo profumo. La regala, forse, la mandorla. Io non sono un'esperta e non ho trovato nessun tipo di recensione su questo profumo, quindi queste sono... Non mi sono neanche potuta ispirare o cercare informazioni. Sono cose che ho sentito io. Ma ve lo racconto con un'esperienza. L'esperienza di oggi. Oggi mi sono arrivati dei profumi che ho acquistato e che mi sono regalata. Perché sono stata molto brava, ne ho finiti dieci e quindi non ne ho comprati dieci, ma ho comprato qualche profumo. Ma di questo poi ne parleremo prossimamente. Tra questi profumi che ho comprato c'è Aromatic Elixir. E lì, Elisabetta R, se magari mi ascolti, sappi che l'ho acquistato. L'ho acquistato perché dopo averlo provato tante volte e avendo avuto un cammino che mi ha portato a comprarlo, perché mi piace, all'inizio non era stato così. Comunque, questo sarà una cosa che vi racconterò quando poi l'avrò provato un po' e ve lo posso raccontare. Oggi mi è arrivato il pacco con Aromatic Elixir di Clinique e me lo sono spruzzato nella parte destra. Sul braccio, qui sotto. E poi, siccome stasera volevo fare questo video e vi vorrevo raccontare Zed, e sulla parte destra mi sono spruzzata Zed. Siccome avevo intenzione di fare il video, ho detto così. Intanto mi rammento un po' le cose che voglio dire. Vado a prendere mia mamma, dovevamo andare a fare la spesa e al cimitero, la giornata per fare queste cose, e mentre la citofono, lei scende, ci mette un po' a scendere. Perché ora che chiude la casa, ora che si mette la giacca e poi scende, insomma. E c'era una brezza leggera. Mia mamma abita ai piedi di una montagna, che è il San Martino, che è una montagna famosa qui a Lecco. Abita proprio all'imbocco del sentiero. E c'era questa brezza e tra Aromatic Elixir e tra Zed io sentivo Zed. C'era questo profumo di pasticceria, questo profumo di caffè marocco, questo profumo di vaniglia, di tabacco, di zucchero, di cacao, di cioccolata, che veramente mi circondava. Mia mamma scende, sale in macchina, mi guarda e mi dice, hai fatto i biscotti? E io le ho detto, no, mi facevo fare i biscotti, ma non ho mica tempo, cioè sono venuta a prendere tè. Ah ma che profumo di biscotti che c'è in questa macchina? Allora, le ho fatto sentire il profumo e lei mi ha detto, che buono questo profumo, sembra proprio profumo di pasticceria, di biscotto. E quindi questo penso sia il sunto di quello che può essere questo profumo. Come vi dicevo, è un profumo che dura tutta la giornata, è un profumo delizioso, non ha un'evoluzione su di me, come lo spruzzo rimane, ma rimane così anche in intensità. Cioè, questo veramente è un piccolo gioiellino. E sarei tentata di comprare un piccolo campioncino, se esiste, di questo Z di Morph, o Morph Z, non lo so, non lo conosco. Sapete che io sono ignorante per i profumi di nicchia, sono ignorante su tutti i profumi, perché quello che vi racconto sono soltanto le mie sensazioni, quello che scaturiscono in me questi profumi, ma sarei molto tentata di vedere se c'è una somiglianza, perché questo secondo me è davvero un piccolo gioiellino, un piccolo capolavoro. Nulla. Ecco, tutti questi profumi, tutti questi profumatori me li sono comprata da me, non sto sponsorizzando l'azienda. La sponsorizzo perché secondo me, da quello che ho provato, è un'azienda molto valida, che vale la pena di conoscere. Ma me li sono comprata con i miei sollini e loro non sanno neanche chi sono. Ecco, questo lo vorrei precisare prima che qualcuno magari pensi che io stia facendo pubblicità occulta. È pubblicità perché mi piace condividere le cose belle che scopro, e siccome so che tra di voi ci sono tantissime persone che amano i profumatori, i profumi, e comunque scoprire delle aziende che hanno dei prezzi concorrenziali, potrei dire, magari se volete provare, fateci un giretto, vi lascio tutte le indicazioni, ovviamente nell'info box, e vedete voi se provarli oppure no. Per quella che è la mia piccolissima esperienza, questi profumatori sono il top. Sono il top. Se avete dei profumatori che sono veramente così tanto profumati, così tanto intensi, fatemeli conoscere. Scrivetemelo sotto nei commenti, condividete con me i vostri profumatori migliori per ambiente, e io li proverò, sono sicura. Bene, dopo avervi così parlato di questo brand nuovo, Luxuria Alternative Parfum, io vi saluto, vado a riporre nelle varie stanze tutti i miei profumatori, e mi vado a guardare le due puntate di Doc. Vi aspetto in un prossimo video, vi abbraccio, vi auguro una buona serata, e tanti bacioni. A presto, ciao e grazie.